Se dovessi invitare tre persone dello sport a cena, inviterei Michael Johnson, Valentino Rossi e Roberto Baggio. Michael Johnson perché mi colpì nel 1996 quando vinse la medaglia d'oro all'Olimpia di Atlanta. Mi ha sempre colpito il suo modo di correre, in quanto lui correva con il torso all'indietro. Poi Valentino Rossi perché quando cambiò moto e così dicevano che era una moto inferiore riuscì a vincere ugualmente. E terzo Roberto Baggio perché è riuscito ad emergere anche in squadre inferiori, è stato l'ultimo italiano a prendere il pallone d'oro. Poi mi è piaciuto anche come persona al di fuori dell'ambito calcistico. Farei un menù tipico toscano, classico antipasto, due primi e la classica fiorentina. Se dovesse arrivare un quarto personaggio vorrei che fosse Carl Lewis, in quanto è stato un atleta polivalente. Oltre alle notizie sportive si trattasse anche argomenti di attività motoria per tutte le età.